Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a giocare a Roblox su Piggy E non voglio immaginare, vabbè, book 1 o 2? 2, 2 E... Io sto premendo 2, poi non lo so 2 Boh, ora vi faccio sapere dopo Boh, io non lo so E mi sto facendo entrare qua, non so oggi come parlo E... Dopo 100 ore Bassiamo un poco, il mio telefono modernissimo Allora, già qua ci fa questo coso qui Non lo so se si deve camminare L'AI Book 2 Book 2 Qua c'è la macchinina 500 di una volta E... Non lo so Che cosa si può comprare, niente Eh, che è sto rumore? Vabbè, alziamo un pochino Perché io non ho capito Oh mio Dio Vabbè ragazzi, comunque da oggi si inizia a fare giochi horror Ve lo dico già da ora Perché è una cosa molto importante E... Perché siamo ad ottobre E quindi già i giochi horror iniziano E poi inizieranno pure con i natalizi Che saranno... Che saranno fatti da novembre a dicembre Eh, da novembre a dicembre forse, sì Dopo di questo video inizieranno tutti i video horror E ovviamente dovete restare con me perché io ho paura, non ne voglio Quindi restate con me Per domani Già, questo qua sarebbe un gioco horror Allora non so soltanto dove stiamo andando Intanto dobbiamo andare a vedere un po' di cosa Dobbiamo trovare qualche oggetti E... Questo... Veramente io non sono tanto bravo a questo gioco Quindi non so se questo qua ci protegge o è cattivo Ora vedrò cosa prendere Se sarò utile per questa squadra che deve aiutare per uscire Qua c'è una trappola per orsi E... Un'altra Ah, questa qua che cos'è? Una chiave Una chiave Scusate perché si vede brutto da qua, così Vabbè Prendiamo la chiave Red K Eh, mio Dio Che fortuna, che fortuna No, no, è dietro di me È dietro di me È dietro di me No, vabbè Ciao Ciao Sì, inutile State... Ma ma che... Mamma mia Aiuto, 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 aiuto Ma come si fa ora? Tac, tac Ok, fatto, fatto Che bella, che bello, che bello Se sentite musica, lasciatemi stare perché io non capisco, perché metto sempre musica Io voglio fare un video senza essere disturbati Ecco qua Ecco fatto Io avevo scelto la... Ah, vabbè È bello, bello, bella questa mappa Dobbiamo trovare chiavi, rostri, chiavi di tutti i colori Cioè, quello con la pelle verde Pure io una volta le ho fatto belle verde E... Dai Ma non me ne ero accorto Cioè Questo qua Cioè Non ho capito come si deve fare Boh E poi Dai Ora stiamo entrando in un'altra mappa Vediamo se ora mi fanno entrare perché non ho capito Se... Granny Quando mai in questa modalità sono stato... Grazie Quando mai sono io Piggy Quando mai Sei Piggy? Sì Questo qua è il poliziotto che mi dovrebbe uccidere Però non voglio che mi uccidano Guarda qua che bello Allora E... Non mi devono uccidere a me perché è mazza Questa Questo non posso farlo perché Dicono che Non posso Sì Deve fare il tempo perché gli altri devono nascondersi E... Beh Lasciate stare ragazzi Mia sorella dice così a casa Intanto ora dobbiamo Non dobbiamo Essere distratti Perché Vieni qui Vieni qui Ma perché Granny va così troppo Lentissimo Vabbè Anzi Sta E... Salta Buissimo Però Dai Meglio Niente Ciao 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 E dai però Ecco ho fatto C'è uno già Io vorrei ucciderlo Ma non penso perché Ciao Ecco ho fatto E c'è la macchina Beh infatti non si può uscire Vuoi Chi esce Ehm Sì in qualche parte si può uscire Però dobbiamo trovare le chiavi Quello Quello No Chi è stato? Il poliziotto Lo so il poliziotto Ma chi è stato a dargli La carica per venire a uccidermi? No No Non è vero Io lo so questo gioco Un po Un pochissimo E perché infatti lo guardo pure da Lion Ehm Non so cosa gli devono dare Cosa gli devono dare L'osso Poi gli devono dare l'osso E beh E ora deve passare un po' di Ah ecco fatto Perché non me ne accorgo Perché deve abbassare la testa Quando mi uccide per giusto Ehm Però C'è una cosa Io L'alzo Ecco Vieni qua Vieni qua Vieni qua Comunque oggi Faranno tutti Stavo dicendo ritardati Tutti storti Non so Vengono tutti uccisi Non lo so Vieni qua No Vabbè dai Apre Ma che ste porte Puoi Vieni Vabbè quello là Per niente è storto Però 100% Ma che io sono storto Questa porta non si apre Però io non ne vedo Lucchetti Quindi per giusto Si dovrebbe Aprire E soffre il silenzio Questo Com'è Tutti li sto uccidendo Ma davvero Tutti storti Tutti storti sono Tutti Metti Metti Tutti Scusate Chi mi sta seguendo Non lo so Ma Scusate Ma Tutti storti Per il motivo Che si fermano E mi dicono Sta arrivando Granny E mi uccide Lì 17 Quando c'erano 16 Non so chi si è scritto Grazie per Chi si è scritto No Raffaella si è riscritta prima E Raffaella sarebbe una mia amica Ora Dovevo pensare al gioco E quello là Sembra essere Bravo Però non quanto me Perché sapete Ne ho uccise un bel po' Oggi Abbiamo 5 minuti E ci dobbiamo godere Questi 5 minuti E Se viene qua Viene Se no Ciao E devo prendere un'altra preda Appena la vedo Eccola lì Eccola là E tu che sai Se la femmina Si fermano le skin E che E tu che sai Se questa femmina Se questo maschio La femmina Dice Si scarica Tu il mio telefono E ora Ah Povera storta Non sapevo aprire la porta Che bravo Non ha chiuso lei Non so Ma siete tutti storti Vabbè Guarda Quando io dico Che sono alcuni intelligenti Poi dico che sono storti Perché Più intelligenti di me Non c'è nessuno E no C'è qualcuno Una volta c'era Einstein Però non è che ora c'è E' morto nel 55 Da tanti anni Che è morto Quindi non c'è bisogno Di illuminarlo E Dove sta andando tu? E' chiusa C'è la quarantena Devi stare dentro Dove? Ma dove sta andando? E' troppo lento sto cremmi Troppo lento Mamma mia Che ammazzo Quello Comunque a tutti sto uccidendo Quindi Vieni qua Sì Io non ti ucciderei mai Maui Dici Giada Che Non vedi che non va niente Dai Giada Si è sentito il rumore E' Giada che sta mangiando Quindi Ora che stupperò E vedrò quello che potrei fare Ok Mi sono andato dall'astanza Perché lei mangiava E non E scrivete nei commenti Cosa stavano leggendo Se già ti stai guardando questo video Dove scrivere i commenti Così qualcuno Andrà a prendere con la chiaverina Perché Vabbè Non so dove l'ho presa questa cosa No 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 Ti prego ti prego ti prego Mi ha preso Il cagnoleno Guarda sai che è stato Quello là è stato Appena Ma Giada Scrivi di più Come si può giocare insieme Guardalo Guardalo Guarda Non è giusto Guarda Non è giusto E quello che fa così Ecco fatto Appena Appena E qui Che non vale niente Ma qua non è il più Vedi che si è fermato Deve ne dare l'osso Penso che è l'osso Poi non so veramente Queste cose le devono dare Vabbè Troviamo A un altro Eccoli là No Non posso Appena finiscono questi due minuti Io finisco il video Cioè Troppo 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 Comunque Sono essendo bravi Sì Però Quanto Grazie Sì Esci Esci No Che sapevo io Io che potrei sapere In questi giorni Potrei sapere che Eh Beh Cioè Ce n'è pure una Fuzia Che sta un bel povero Questa Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua E come fa Ma dov'è Questo Ma non hai Ma non hai Eccola qua Ci nascondiamo Ci nascondiamo Voi che dita Come ha fatto A salire la sua Ora guarda Vieni 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 Questo 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 Storto Pensiamo che è Storto Però la skin C'è una bella E manna Che le macchine Che l'ha create Ma non hai Su roblox Non lo so Non ho Ce nascondiamo Perché Servono Un bel po' Puro Ma che stai facendo Shift Non so Siamo con la chiave Non devono uscire Comunque questo qua è gentile È bravo Perché Proprio Ha cacciato Ciao Buonasera 35 secondi Vieni vieni Perché non vengono BAU 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 Va beh Qua mi hanno ucciso 12 secondi Stanno venendo altri Sì Stanno venendo altri La parla così Sapete Non è che prendo Un cucchiaio Non sviene Time over Voglio vedere se fa ancora rumore Finito Vabbè ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Ciao ragazzi Poi c'è un nuovo perfum video Domani Ciao